Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Si parlerà molto del prezzo dei pantaloni di Kieran Bursin. Kieran Bursin, che ha battuto i record di rating in ogni serie A, cui ha preso parte da quando ha iniziato la sua carriera di attore. Ora è diventato all'ordine del giorno con i pantaloni che indossa. Il prezzo dei suoi famosi pantaloni, che a molti dei suoi fan non piacevano o trovavano addirittura pessimo, era sbalorditivo. Kieran Bursin, che ha una grande base di fan in Spagna. Il film A Todo Train 2, in cui ha recitato di recente, è uscito in Spagna. Assistito alla prima. C'è stato un grande interesse per Bursin al Gala tenutosi a mezzogiorno. Condimento dal marchio di fama mondiale. Bursin ha indossato pezzi della collezione autunno 2022 di un marchio di fama mondiale. Pantaloni 65.000 atlet. Si è appreso che il prezzo dei pantaloni che indossava solo il bellatore era di 65.000 atlet. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.